A Sulmona la maggioranza di centro-sinistra del sindaco Gianfranco Di Piero non ha più i numeri per proseguire il suo percorso amministrativo, a seguito del passaggio all'opposizione della consigliera Teresa Nannarone, di Libera e Forte, eletta nelle fila del PD. Intanto io ho convocato la conferenza stampa per chiarire quelle che sono a mio giudizio le ragioni della crisi. C'è le ragioni di un malessere profondo che pervade l'amministrazione da tanto tempo, forse già probabilmente dal suo insediamento. Non posso far altro che certificare una situazione di crisi attestata dal venir meno della maggioranza consigliare. Quindi è una situazione precedentemente latente e oggi conclamata. Credo di dover, come atto di riguardo nei confronti della città e anche nei confronti del Consiglio Comunale, credo che la soluzione della crisi, se può esserci una soluzione, non debba prescindere da un pronunciamento del Consiglio Comunale. Quindi sentirò i gruppi consigliari per vedere se esistono delle possibilità alternative allo scioglimento e promuoverò un confronto nell'ambito della sede opportuna, che è quella del Consiglio Comunale. Quindi il prossimo passo quale sarà? Da subito convocherò i gruppi consigliari per un confronto aperto, leale e possibilmente costruttivo con loro. Questa crisi potrà avere un esito positivo? Noi dobbiamo sempre augurarci che attraverso il dialogo tra le forze politiche, il dialogo che poi sono rappresentative della città sotto, ognuno per la propria parte comunque rappresentano il giudizio, la sovranità popolare che si è espressa attraverso il pronunciamento elettorale. Dobbiamo sempre auspicare che il confronto corretto, leale e costruttivo con queste forze possa approdare ad una possibilità di dialogo. Comunque io non lascerò nulla di intentato per quelle che sono le mie possibilità prima di dover conclamare una situazione irreversibile.